Nuovo look per la stazione di Molfetta, abbattimento delle barriere architettoniche e wifi gratuito per offrire maggiori servizi agli oltre mille viaggiatori che ogni giorno frequentano lo scalo. Nuovi marciapiedi a standard europeo, alti 55 cm per facilitare l'accesso ai treni, percorsi tattili a terra con tecnologia per ipovedenti e moderni ascensori con una capienza di 6 persone che saranno aperti tutti i giorni dalle 6 alle ore 22. riqualificati di spazi aperti al pubblico, atrio d'ingresso, sala d'attesa, sottopasso pedonale e pensilina del primo marciapiede. Sono gli interventi realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, presentati al sindaco di Molfetta Tommaso Minervini dal direttore produzione territoriale di Bari Giuseppe Marta per un investimento complessivo di 1 milione e 600 mila euro. A Piazza Moro davanti alla stazione abbiamo concentrato tutti i capilinea delle circolari e accanto abbiamo comprato tempo fa il comune di Molfetta un'aria nella quale realizzeremo nel 2019 una velo stazione del parcheggio. Alle spalle sarà realizzata una stazione di scambio per i pullman extraurbani di modo che non transiteranno più per il centro città e quindi cambieremo tutta la mobilità rendendo sempre di più questa città vivibile e a misura d'uomo. Gli interventi eseguiti nella stazione di Molfetta sono relativi all'inalzamento del marciapiede ad un'altezza standard secondo i canoni europei che permette un maggiore accesso al servizio. Abbiamo installato gli ascensori che sono controllati a distanza dal nostro posto centrale con un orario d'apertura sette giorni su sette dalle 6 alle 22. Inoltre come nostro standard abbiamo creato i percorsi per gli ipovedenti con una tecnologia LVE che permette di comunicare agli ipovedenti sul percorso che stanno seguendo e infine abbiamo reso gratuito il wifi, quindi la stazione non più come mero punto di accesso al servizio ma anche come luogo di aggregazione per la comunità della città di Molfetta.